ti ha facoltà di rispondere. Prego. Grazie Presidente. La circolare numero 3 del 2015 chiarisce l'ambito di applicazione dell'articolo 29,2 del Decreto Legislativo numero 81 del 2015 e dell'articolo 1,131 e 132 della legge numero 107 dello stesso anno. Il decreto sopracitato ha abrogato e sostituito la preventiva e previgente disciplina in materia di contratti a tempo determinato contenuta nel Decreto Legislativo numero 368 del 2001, prevedendo all'articolo 19,2 che, aperte virgolette, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi e con l'eccezione delle attività stagionali, di cui è l'articolo 21,2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per effetto di una successione di contratti conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e, indipendentemente dai periodi di interruzione da un contratto all'altro, non può superare i 36 mesi. Tuttavia, per poter garantire una costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, caratterizzato da peculiari esigenze di flessibilità dovute a fenomeni quali le oscillazioni demografiche, la migrazione scolastica e le variazioni nelle scelte dei diversi indirizzi, il decreto appena citato, all'articolo 29,2 lettera C, ha stabilito che la nuova disciplina non si applica ai contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente ed ATA per il conferimento delle supplenze e con il personale sanitario anche dirigente del Servizio Sanitario Nazionale. A norma della stessa articolo 29 resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del Decreto Legislativo 165 del 2001, che definisce i limiti entro i quali le pubbliche amministrazioni possono ricorrere a contratti di lavoro flessibile. Inoltre, la legge numero 107 ha previsto un piano straordinario di assunzioni volto a limitare il fenomeno della reiterazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato e, con il comma 131, ha stabilito che a decorrere dal 1 settembre 2016 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente educativo, amministrativo, tecnico ed auxiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali per la copertura di posti vacanti e disponibili non possono superare la durata complessiva di 36 mesi. Tale disposizione si riferisce esclusivamente al personale delle istituzioni scolastiche ed educative statali. Ciò però pone il problema dell'applicabilità dell'articolo 1,131 della citata legge 107 anche al personale delle istituzioni scolastiche e comunali. A tal proposito, la circolare numero 3 del 2015 chiarisce che al personale docente edata delle istituzioni scolastiche comunali è applicabile l'esclusione della disciplina generale del rapporto a tempo determinato, posta dal Decreto Legislativo numero 81 del 2015, mentre non è direttamente applicabile la disciplina speciale della legge 107. Ciò non significa che non vi siano limiti alla durata complessiva dei rapporti di lavoro a tempo determinato di questo personale. È evidente, infatti, che le esigenze di tutela del lavoratore sottostanti alla disciplina europea, quella nazionale del lavoro a tempo determinato, si pongono anche per tale personale. Si esclude pertanto che il legislatore abbia voluto lasciare, privi di tutela in relazione alla durata del contratto, anche i dipendenti delle scuole comunali. Anzi, la stessa circolare sottolinea come, dalle disposizioni della legge 107, emerga un orientamento legislativo finalizzato alle assunzioni nel settore scolastico ed invita i comuni, non soggetti a tale legge, al superamento del precariato nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e nei limiti della sostenibilità finanziaria. La suddetta circolare ha concluso, peraltro, ritenendo che sono i comuni a dover valutare, pur nell'osservanza dei principi richiamati, la sussistenza delle ragioni oggettive che, che permettono di reiterare i contratti di lavoro a tempo determinato, al fine di corrispondere alle esigenze improcrastinabili collegate all'inizio di ciascun anno scolastico. Ora, sappiamo, come l'interrogante espone nella sua interrogazione, che ci sono dei comuni, in particolare Torino, Milano, Roma, Napoli, che hanno delle situazioni emergenziali. Ricordo che attraverso la circolare il Comune può valutare la possibilità di prorogare 36 mesi e quindi far fronte alle esigenze di quest'anno. Ricordo altresì che la legge di stabilità ha escluso dall'applicazione del blocco delle assunzioni le cosiddette categorie infungibili, cioè quelle categorie di personale pubblico che non possono essere assunte attraverso procedure di mobilità attivate dalla legge 56 e quindi, facendo il combinato disposto di queste norme, i Comuni debbono, dovrebbero procedere alla stabilizzazione o all'assunzione di nuovo personale per far fronte al nuovo anno scolastico. È chiaro che sta ai Comuni valutare le condizioni di operabilità anche rispetto ai vincoli di bilancio a cui devono far fronte. Grazie. Ringrazio. Onorello Chimienti per la replica. Sì, grazie Presidente, grazie Sottosegretario. Dunque, sì, in effetti appunto la circolare numero 3 del 2 settembre 2015 faceva intendere che per i servizi educativi, in attesa dell'espletamento delle procedure di immissione al ruolo dei precari, il vincolo dei 36 mesi potesse essere trascurato. A Torino, però, ci sono state appunto situazioni diverse in tutta Italia. Gli amministratori locali hanno deciso arbitrariamente di disattendere questa circolare, scelta che è stata anche aggravata dal fatto che nel 2012 il Comune di Torino ha creato due graduatorie riservate esclusivamente al personale degli asili nido e delle scuole materne, con più di 36 mesi di servizio. Lo scopo delle graduatorie sarebbe dovuto essere quello di stabilizzare il precariato storico, attingendo da esse per i soli contratti a tempo indeterminato. Allora, il Ministero della Semplificazione e Pubblica Amministrazione, nella circolare 3 2015, specifica che il fine della norma continua a essere quello di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, in presenza delle menzionate esigenze connesse al corretto funzionamento.